PTC Creo Piping and Cabling Extension o PCX consente ai progettisti di creare schemi elettrici ed idraulici in modo semplice e rapido. Tali sistemi possono essere progettati direttamente nell'ambiente 3D o gestiti in modo intelligente tramite uno schema 2D. In questo esempio verranno progettati i sistemi di tubazioni e di cablaggio di un razzo. Partendo dallo schema 2D, i progettisti possono esaminare velocemente la stesura e i collegamenti dei cavi per evitare che si verifichino errori. Nel caso in cui sia necessario un nuovo cavo, è possibile aggiungerlo facilmente all'ambiente 2D, è sufficiente selezionarlo da una libreria standard e creare il collegamento. Questo ambiente dedicato in PCX consente di migliorare la documentazione di progettazione e di garantire l'integrità di progettazione durante l'intero processo. Questo ambiente 2D supporta inoltre l'esportazione di diagrammi elettrici, di cablaggi e tubazioni in formati standard, come XML e si integra con PTC Windchill. Ora è possibile aprire il sottoassieme di cablaggio nell'ambiente 3D. Il nuovo cavo aggiunto allo schema 2D è pronto per essere steso. PCX identifica automaticamente un errore, che in questo caso riguarda un connettore mancante, e chiede all'utente di risolvere il problema. Dopo aver risolto l'errore, l'utente torna automaticamente all'operazione di stesura precedente il problema, assicurando così un flusso uniforme al processo di progettazione. In PCX è possibile estendere i cavi utilizzando diverse opzioni, dalla stesura semplice alle opzioni che forniscono livelli di controllo decisamente superiori. Inoltre è possibile eseguire facilmente la ristesura dei cavi mediante l'accesso rapido ai comandi. In questa progettazione vengono stesi tre cavi in modo da seguire un insieme di cavi esistente e assicurare una progettazione precisa. PTC Creo consente di ottimizzare questo processo, grazie al feedback visivo costante, assicurando il rispetto delle finalità di progettazione originali. È possibile utilizzare la ristesura dei cavi, anche per correggere le interferenze con la geometria circostante, selezionando semplicemente il cavo e aggiungendo una posizione da evitare. La creazione di informazioni sulla fabbricazione per il cablaggio è un'operazione semplice e rapida. Il cablaggio 3D viene automaticamente spianato in 2D, permettendo di visualizzarne i singoli componenti. Infine, il cablaggio può essere automaticamente messo in tavola, con la relativa distinta base e riducendo così in modo significativo i tempi di progettazione per i prodotti che prevedono cablaggi. Come per tutti gli aspetti di PTC Creo Parametric, qualsiasi modifica apportata alla progettazione 3D si riflette immediatamente nella documentazione dei disegni 2D. L'avvio della progettazione di tubazioni con la soluzione PCX è una procedura molto simile alla progettazione di cablaggi. Ancora una volta il progettista dispone di un'interfaccia utente dedicata con barra multifunzione, questa volta per la progettazione di tubazioni. Come il cablaggio, anche la stesura dei tubi è un'attività facile e veloce da eseguire. Analogamente a quanto descritto in precedenza, per modellare rapidamente un nuovo tubo è sufficiente selezionare il punto iniziale e prendere come riferimento un tubo esistente. Come per il cablaggio, qualsiasi modifica apportata si riflette automaticamente nei disegni di produzione, che in questo caso sono l'assieme di tubazioni, la distinta base e i disegni dei singoli tubi. Con la soluzione PTC Creo Piping & Cabling Extension, i progettisti possono creare progetti di schemi elettrici ed idraulici in modo semplice e rapido, utilizzando un approccio basato su una modellazione 3D o su schemi 2D.